buongiorno a tutti e bentrovati alla rubrica domanda risponde torniamo a parlare di mobilità anche perché i tempi sono maturi entro gennaio dovrà essere firmato il contratto collettivo nazionale integrativo sulla mobilità per l'anno scolastico 2000 23 2024 e a febbraio molto probabilmente ci saranno i canonici 10 12 giorni per poter presentare l'istanza di mobilità prima domanda sono una docente titolare sul posto di sostegno e sono uscita dal vincolo quinquennale su quali posti comuni potrò fare domanda di mobilità per l'anno scolastico 2023 2024 allora tenendo conto che i trasferimenti da posto di sostegno a posto comune possono essere richiesti dai docenti titolari su sostegno che abbiano superato il vincolo quinquennale di permanenza su tale tipo di posto e ai fini del calcolo vale anche l'anno in corso 2022 2023 e sempre che non siano sottoposti però questi docenti ad altri tipi di vincoli triennali all'ora della mobilità chiaramente possiamo dire che potranno aspirare al 75 per cento dei posti dunque non a tutti i posti ma ai tre quarti dei posti liberi dopo i trasferimenti di seconda fase da posto comune a posto comune domanda numero 2 nel trasferimento provinciale da un comune verso il comune in cui vive il genitore disabile in stato di gravità legge 104 articolo 3,3 tanto per intenderci il figlio deve essere referente unico e deve essere convivente con il genitore per poter fruire della precedenza della mobilità ancora diciamo che il contratto sulla mobilità 23 24 non è stato firmato però appare certo che la precedenza per assistenza al genitore in stato di gravità cambierà radicalmente si dovrà intervenire ad eliminare come disposto dalla legge il concetto di referente unico di referenza unica quindi è presumibile e diciamo presumibile non abbiamo la certezza ma è presumibile pensare che la precedenza possa essere fruita anche da un figlio che non è convivente con l'assistito anche qualora dovessero esserci altri figli conviventi potremmo essere più precisi solo a contratto firmato e pubblicato domanda numero 3 l'anno scolastico in corso dunque il 2022 2023 potrà essere valutato per il calcolo del punizio ed eventualmente per la continuità l'anno scolastico 2022 2023 non ha valore di punteggio di servizio e nemmeno per la continuità del servizio ai fini della mobilità territoriale e professionale dunque passaggi di ruolo e passaggi di carta per l'anno scolastico 2023 e 2024 speriamo che le risposte date a queste domande possono essere utili ai nostri lettori seguiteci sui nostri canali social facebook youtube e seguiteci anche nel nostro sito www.tecniciolascuola.it arrivederci tutti alla prossima puntata